ragazzi bentornati in questo nuovissimo episodio anzi no in questa nuova stagione bellissima cazzo della Dampograph 2 iniziamo ok ragazzi tutto pronto creiamo il mondo ed eccoci qua a che merda iniziamo a scavare la legna facciamo una cutting ok piazziamo facciamo gli stick facciamo altri stick facciamo altra legna per farci il piccone prendiamo il piccone scendiamo qua giù e iniziamo già a prendere la pietra così possiamo fare direttamente già il piccone in pietra dopo facciamo anche a sto punto prendiamo tutta la pietra che ci serve ok non so se ci basta non lo so si ci basta a posto organizziamo un ottimo l'inventario inventario sistemato allora adesso prendiamo un altro po di legna e una donna santa le mucche puttana di merda prendiamo altra legna e andiamo a uccidere altri animali cercare cibo dobbiamo vivere e cos'è sto cosa ma ok abbiamo già un rifugio per la notte perfetto forse si entrava da di qua perfetto no non lo posso prendere vabbè da vivremo con un buco in casa perfetto allora abbiamo già una base e ok faccio una ceste deposito le cose si va in miniera e ok ragazzi mi sono organizzato per bene ho fatto anche del cibo ho preso altra legna vi ho risparmiato tutto il tempo e si sta facendo notte direi di andare in giro a cercare l'entrata di una miniera ovviamente ammazziamo sempre tutti gli animali però aspettate mi sono dimenticato di settare lo spawn ah ok no niente a quanto pare è già notte allora l'entrata di una miniera dove potrebbe mai essere però c'è del carbone allora secondo me stiamo proseguendo sulla strada giusta o forse no ok forse dice l'entrata di una miniera e per ora mi sto ricordando la strada per tornare a casa ti prego non essere ok non essere schifosa e ho già una bella entrata già mi ispira ok prendiamo altro carbone perché male non fa carbone preso e riusciamo a fare qualche torce vediamo a posto togliamo la lana ho detto togliamo la lana mettiamo le torce la carne via cobblestone via oh adesso si vede qualcosa lì c'è altro carbone anche qua sotto piglio sto carbone oh i primi mob vediamo di non fare niente di schifoso a posto solo una hit per il momento va bene botone che i primi mobblestone bastardo torce carbone no 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 già finita la miniera Caspita mi fa prendere una patata E niente ragazzi È stato un totale fallimento Questa spedizione miniera Allora Comunque si abbiamo trovato molto carbone Schifo non fa E di là Ok c'è una foresta A sto punto Prendo un po' di carbone ancora E torniamo dopo Alla base Allora nel mentre che sto scavando questo carbone In molti vi chiederete Ma Dapo Perché questa qua è la stagione 2 Cioè Nella Dapocraft stagione 1 Hai fatto solo Quanti ne ho fatti? 5 episodi? Havo registrato il quinto Però il quinto non è stato mai pubblicato Allora Intanto che quello zombie si Si approccia verso di noi A posto Vabbè stavo dicendo Ma come mai? Sostanzialmente Perché ho cambiato Playstation Adesso gioco da Playstation 5 Ebbene sì E il mondo E il mondo dell'Apocraft È andato perduto Per sempre Sì E Ok ragazzi Carbone preso Si torna Si torna la base Ci sono delle canne da zucchero Oh Ci sono un orso polare Non mi attacca A posto Bernardo Ok ragazzi Siamo tornati a casa Oh Allora no A quanto pare Non è ancora notte Non è ancora notte Non è ancora notte Adesso è notte Dormiamo Ok Allora Mettiamo in una cesta Tutto quello che abbiamo trovato E Ok Tutto a posto Allora Stavo anche pensando Allora abbiamo Questi assedi di legno Prendiamo Un bastone Vediamo se in teoria basta Per fare una zappa In legno Anche Bellissimo E La facciamo Però Non ho gli stick La facciamo qui Lungo la riva No è troppo lontano Vabbè dai Appena Avremo Appena avremo Un po' di acqua Un po' di acqua Cosa sto dicendo Appena avremo L'opportunità Di trovare Del ferro Faccio un secchio E Farò L'irrigazione Del nostro Gampo Che Per il momento Sarà qua Ok Che è successo? È stato il lupo Ammazzato la pecora E Un altro lupo Sta ammazzando Un'altra pecora E Qui direi Facciamo qua No Aspetta Solo sulla sabbia Mi fa solo sulla sabbia E vabbè Allora Le canne da zucchero Aspetteranno E Niente Per questo episodio Penso Possa bastare Ci vediamo Nel secondo Adios E A B Grazie.